Un incontro a Roma tra partner europei e i paesi del Nord Africa per gestire la crisi dei migranti con centri di selezione e controllo sul modello degli accordi raggiunti con il governo libico di Sarrai. Ad annunciarlo è il ministro dell'interno Minniti. I migranti, spiega in un'intervista, rappresentano la prima grande sfida dalla nascita dell'Europa Unita. Chi scappa da guerra e fame ha diritto d'asilo, gli altri vanno rimpatriati. Nessun muro, spiega Minniti, ma non è possibile continuare a ricevere chiunque sbarchi sulle nostre coste senza alcun criterio di accoglienza. Dal Consiglio d'Europa arriva un richiamo all'Italia sulla debolezza del sistema di accoglienza che rischierebbe di incoraggiare più sbarchi. Le maggiori criticità riguardano però la mancanza di posti in centri adeguati ad accogliere i minori non accompagnati e l'inceppamento del sistema di custodia legale, l'unico che assicura il pieno rispetto dei loro diritti. Lo stesso Consiglio riconosce che l'Italia è sottoposta ad un'enorme pressione e che non può essere lasciata sola. Un tema è quello dei migranti che oggi sarà sul tavolo del Consiglio europeo e che nei giorni scorsi ha fatto salire di nuovo la tensione tra stati fondatori dell'Unione e Paesi dell'Est. Sul fenomeno migratorio torna anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un'intervista a Civiltà Cattolica. Occorre distinguere anzitutto tra i profughi e i migranti per soli motivi economici, permette Mattarella, che meritano comunque rispetto anch'essi. Altro problema delicato è quello dei minori non accompagnati. Bisogna organizzare in Europa in maniera più intelligente e continua Mattarella l'accoglienza e l'integrazione, evitando che si creino ghetti per gli immigrati e per le successive generazioni che li facciano sentire marginati.